ci puoi raccontare la tua idea imprenditoriale e aprire un luogo di incontro per artisti e un posto dove posso creare vasi su tornio in ceramica quindi ceramica su tornio e poi includere anche altri artisti con le loro attività e loro progetti e quindi magari avere dei piccoli angoli per ogni attività avere dei corsi avere dei torni per fare appunto corsi di ceramica e creare una specie di come si chiama in inghilterra un hub creativo per persone che vogliono lavorare al loro progetto personale oppure portare la propria capacità ad altri nella fase iniziale della tua attività quali ostacoli hai incontrato prima di tutto il non sapere assolutamente da dove iniziare è stato erano delle idee buttate lì così un po insomma mi piacerebbe fare qualcosa così di questo tipo anche parlando con amiche un po artiste però proprio non sapevo da dove partire non sapevo come pianificare non sapevo dove andare a sbattere diciamo così in che modo ti ha aiutata il punto nuova impresa di camera di commercio qual è il tuo feedback il mio feedback è senz'altro un feedback positivo ho trovato supporto tante informazioni utilissime contatti importanti per la mia attività e anche molte compagnie di viaggio e compagnie viaggio molto interessanti con quei quali può nascere una collaborazione in futuro